Siamo arrivati a questo lavoro completo, un lavoro completo, ci sono i pareri del revisore questa volta, un parere favorevole e dove in effetti noi con l'approvazione del consolidato riusciamo a dare risposte concrete alla città in merito alle assunzioni, in merito a una serie di servizi che continueranno a esserci sul nostro territorio. È una posizione necessariamente critica, arriviamo con alcune delle partecipate che non hanno presentato il bilancio, con un parere dei revisori dei conti che da una parte dice che c'è il loro benestare ma poi evidenziano tutta una serie di difficoltà come la discrasia tra crediti vantati dalle partecipate e quelle registrate dal comune, manca l'elenco puntuale dei beni di queste partecipate che servono poi a determinare con precisione lo stato patrimoniale. Insomma ci sono così tante lacune e non ultimo, manca poi il parere dei revisori dei conti di queste partecipate, lo stato attuale è un bilancio consolidato che non si può votare perché non ci sono proprio gli elementi per comprendere se c'è o non c'è un quadro chiaro della situazione.